Grazie Simona per la linea qua dallo stadio Grazie Simona Io vorrei dire delle belle cose però purtroppo non posso parlare perché il microfono lo tiene Luca Galtieri Nazionale Calcio TV siamo pronti Mi astengo, mi astengo Siamo pronti per scendere in campo qua i due elementi significativi di questa squadra nazionale Il mitico Vespone Aspetta un momento, scusate ma sono portatore sano di tagliatelle Appena digerendo, devo andare in campo Oddio che si è mosso la salsiccia Ma questa è l'atmosfera che insomma c'è in questo anteprima della partita Posso dire una cosa alle persone che sono a casa e che non sono venute a vedere la partita? Siete delle brutte persone Questo è vero Anche perché oggi Buona occasione per divertirsi tutti quanti insieme Siete tutti delle brutte persone A parte divertirsi è una buona occasione per? Per fare della beneficenza abbiamo fatto una giornata, faremo una giornata straordinaria Raccoglieremo dei fondi per ben quattro associazioni Cinque Sei Quante associazioni sono? Quattro associazioni onlus E quindi venite tutti, avete ancora qualche secondo per arrivare Saluto finale vai Vi giunga il mio inqualificabile come dico sempre Aspettate che deve salire il viscido che è in me Salve Saluto finale vai Ho fatto il suo Non puoi copiare il tuo E poi i muri Non lo so Da Luca Galtieri Ma perché? Linea, lo studio, dallo studio Mancini e tutto Ciao Simona Ciao a te Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti